Qui in diretta, senza voce, Ellie Cowlitz, senza voce la Pitacchia e Lalla la Bassist. Siamo Amina, noi siamo appena scesi alla fermata del Duomo, che è bellissima. Quella è la terrazza di Tierra, dove c'è salita da sopra in piedi Jared Leto, ci sono stati gli Oasis, Paramore, Metro Station, Dallas Brothers, che hanno riempito tutta la piazza, chi più ne ha più le mette, non lo so. Adesso ci incammineremo verso questa magnificenza. Sono usciti esattamente da quella fermata la prima volta, dalla fermata della metropolitana, che inquadrano sempre TRL. Mi sono messa davanti al terrazzo, mi ho preso uno sclero assurdo, la gente li guardava come a dire, questo è pazzo, mi sono messa a correre verso il terrazzo, tipo, oddio TRL, e fare così lì sotto. Quindi in questo momento potete vedere l'allicare, c'era la Bassist in diretta da Milano, quindi noi da tutti. C'erano molti piccioni, mi ricordo, che avevo paura, mi sentavano addosso. E uno mi ha regalato un croccialletto, poi se non è magnifico, se non è magnifico, sembra finto. Oddio TRL! Ok, io ho solo questo. TRL, gente strana. Tanti hongi, voi non sapete cosa sto dicendo, ma se avete visto il quadro di po' esistono, hongi è quello figo. Guarda, ragazzi, il terrazzo di TRL! TRL, è più triste! E' quello da Vittorio Emanuele, dove sotto c'erano tantissimi, bellissimi negozi. Quanti piccoli? Cazzo, sono i negli occhi e non riesco a fare un lavoro. Dai, lasciaci una testimonianza, ciccio. Dov'è? No, grazie, me ne dovi messo uno l'altra volta! No, grazie! No, perché dopo hai voluto i soldi! Io mi ricordo! Un euro! No, grazie! No! Non lo so! Non lo so! Non lo voglio! Alla gente che cerca di vendere le cose... Aspetta! No, no, non basta! Ragazzi, sono brutta, sono quei occhiali! Ah, io no, sono stanchissimo! Ah, magari se mi fa shopping io li salto addosso! No, non posso saltarli addosso, quindi dovrò andare molto furtivamente e fare tipo... Pil, pil, wait, wait, wait! Mi attacco al suo braccio, tipo... Adea! Mi staccheranno subito, però guarda! Quello c'era anche quando sono venuta io a Natale! Comunque questo è venuto nel nostro video, quindi... Guarda! Si! Tu! Lascia una testimonianza, dove fuggi? Cioè, quando c'è la TRL, mandano la TRL e lo mandano anche indietro con quello schermo! Con quello schermo lì! E c'è sempre qualcosa sotto, che non ho capito cos'è il museo del Novecento! Quello c'è sempre! Quella c'è la Mondatori, beh! Sì! No, sotto! E poi... Non lo so, andiamo... No, basta! Non lo rompete ancora! Che adesso ce l'ho a fare! Troppi piccioni qui, ho paura! Continuo ad andare da mandare! Aiuta! Ciao! Ciao! Prendiamo di nuovamente la terrazza! Sì, adesso andiamo a fare un giro, noi basta, vi lasciamo! E le cari sono la Love Buses, in diretta da Milano! Puntata, non mi ricordo più che numero, forse uno speciale! Facciamo speciale! Speciale da Milano! Ciao! 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 Ciao!